Quest'anno le Maldive sono state meta delle vacanze di molti personaggi famosi, tra cui anche Gali, il rapper più amato dai giovani, e la top model Maria Carla Boscono. I due hanno pubblicato un video in cui si scambiano un tenero bacio durante una partita a ping pong.Guardate. Guarda anche Rivedi Gali lui, 25enne di origini tunisine, cresce a Baggio, un quartiere della periferia di Milano. Inizia a fare rap fin da piccolo nel parco vicino a casa e si registra da solo in casa con il proprio PC. Lei, 38enne madre di una bimba di 6 anni, viene da una famiglia romana impegnata nell'imprenditoria e nella moda. Due storie molto lontane che hanno trovato un punto d'incontro proprio sulle isole paradisiache delle Maldive.Durante una partita di ping pong serale, i due si ritrovano a metà campo per raccogliere la pallina caduta sulla sabbia. Nel momento in cui sono vicini si scambiano un bacio che non lascia tanti dubbi.Guarda anche Golden Globe, vince Bohemian Rhapsody. Rami Malik questo è per te, Freddie Mercury. Ti amo.